Siamo facendo il massimo per migliorare tutti gli aspetti dove possiamo aver peccato ma stiamo lavorando al massimo per programmare già nuovi appuntamenti per continuare a regalare un servizio ai ragazzi disabili nella nostra provincia terramana sono queste le parole vicepresidente nonché assessore delle politiche sociali Renato Rasicci Il 7 maggio andremo al Lago Verde, faremo una giornata di pesca sportiva manderemo questi ragazzi a pesca, quindi abbiamo già ordinato 30 canne da pesca ci saranno le casacche perché ci aiuterà nell'evento il consorzio di Bonifica Nord il dottor Remo Di Vittorio che io ringrazio personalmente poi faremo un pranzo, non al sacco, bensì un pranzo al ristorante Lago Verde di Santomero e lì sarà un menù tricolore molti mi chiedono come fate a scegliere questi ragazzi disabili saranno le associazioni stesse a mandarci questi ragazzi quindi le varie associazioni sceglieranno di volta in volta in base all'evento i ragazzi da inviarci e allora doneremo anche la canna da pesca come ricordo della giornata dopo l'evento di Trigoria che anche lì qualcuno, un signore ha avuto da ridire ma la cosa che a me dispiace è solo questa io sono una persona umana, secondo me è stata una giornata fantastica quindi il signore che qui ha avuto dopo due giorni tanto da ridire poteva benissimo, essendo io presente, lui presente, da persone umane ci si guarda in faccia e si dice c'è stato qualcosa che non è andato bene benissimo, io sono il primo a cercare di fare meglio per la prossima una critica costruttiva, dice guarda ragazzi meglio fare così e meglio fare... però dopo due giorni, dopo un evento, sparare a zero sui giornali non mi è piaciuto